Si potrà passeggiare virtualmente come si fa di solito quando si va a fare una passeggiata di piacere visionando le attività che sono presenti nella strada e che ovviamente hanno addiritto al progetto. Lo shopping nei negozi sotto casa diventa così virtuale grazie al progetto Le Vie di Arezzo. Si tratta di un portale ideato da Tiziana Giorgi, titolare di una cartolibreria in zona pescaiola nato per sostenere il commercio cittadino ma anche per sfruttare al massimo le potenzialità del web e dare così forza ai piccoli negozi nell'attuale situazione sanitaria soprattutto alla vigilia di un periodo vitale per i commercianti come quello natalizio. Il negozio di vicinato sta attraversando un momento molto difficile perché viene in meno quella che è la passeggiata di piacere mettendo anche più in difficoltà il rapporto diretto tra negozio e cliente. Favorendo di fatto tutte quelle realtà virtuali dalle quali spesso il negozio di vicinato rimane escluso. Quindi il progetto serve proprio a questo per dare la possibilità di digitalizzarsi mantenendo forte il rapporto tra il cliente e il negozio stesso. Con un semplice clic dunque si potranno vedere e acquistare prodotti. Il cliente finale potrà entrare nel portale cliccando sull'icona del negozio dell'attività aderente che sarà visualizzabile in maniera anche grafica. Potrà passeggiare prima di tutto nelle vie della città e poi potrà cliccare nel negozio di riferimento ed entrare nei propri social o nel proprio sito o nella pagina e-commerce. In modo tale da poter fare acquisti, mettersi in contatto con l'attività, confrontarsi per i servizi o chiedere preventivi. Il portale ha poi già attivato una convenzione con un'agenzia di consegne che con tariffe agevolate garantirà nel giro della stessa giornata l'arrivo dei prodotti all'indirizzo indicato all'interno della città. Insomma, i commercianti aretini non si danno per vinti e continuano a cercare soluzioni alternative per dar respiro all'economia messa indubbiamente a dura prova da mesi. Gli esercenti che hanno aderito stanno crescendo di giorno in giorno e si parla delle più disparate categorie. Quindi si va dalla macelleria all'abbigliamento, all'estetica, alla parrucchiera. Quindi si parla di una risposta molto positiva che c'è stata da tutte le categorie della città.